Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi porteremo in un luogo che ha molto da offrire e che vi lascerà senza fiato, Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh è una delle destinazioni più popolari dell'Egitto, situata sulla punta meridionale della penisola del Sinai. È un paradiso per gli amanti del mare e della natura. Uno dei principali motivi per visitare Sharm el-Sheikh è la sua straordinaria bellezza naturale. Le sue acque cristalline e la sua ricca vita marina rendono il posto un paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni. Le spiagge di Sharm el-Sheikh sono un altro grande motivo per visitare questa fantastica meta. Spiagge di sabbia bianca, acque turchesi e una vista mozzafiato sul Mar Rosso. Qui, potrete rilassarvi al sole o fare una passeggiata romantica al tramonto. Sharm el-Sheikh è anche un luogo ricco di storia e cultura. Potrete visitare il monastero di Santa Caterina, uno dei più antichi monasteri cristiani del mondo, o fare un'escursione al Monte Sinai, un luogo sacro per molte religioni. Se siete in cerca di avventura, Sharm el-Sheikh non vi deluderà. Potrete fare escursioni nel deserto del Sinai, fare un safari in quad o provare il brivido dell'arrampicata su roccia. Per gli amanti dello shopping, Sharm el-Sheikh offre una vasta gamma di negozi e mercati locali. Qui potrete trovare di tutto, dalle spezie egiziane ai gioielli fatti a mano, ai tessuti colorati. La vita notturna di Sharm el-Sheikh è un altro motivo per visitare questa meravigliosa località. Con una vasta gamma di bar, club e ristoranti, c'è sempre qualcosa da fare quando il sole tramonta. La cucina locale è un'esperienza da non perdere. Provate il kebab di agnello, il falafel, l'hummus e, naturalmente, il tradizionale tè egiziano. Infine, uno dei motivi più convincenti per visitare Sharm el-Sheikh è la sua gente. Ospitali e cordiali, vi faranno sentire a casa. Sharm el-Sheikh è un luogo che offre qualcosa per tutti. Che siate alla ricerca di avventura, relax, cultura o semplicemente un luogo per rilassarvi e godervi il sole, Sharm el-Sheikh è la destinazione che fa per voi. Vi ringraziamo per averci seguito in questo viaggio virtuale a Sharm el-Sheikh. Speriamo che queste informazioni vi abbiano ispirato a pianificare la vostra prossima avventura in questo meraviglioso angolo d'Egitto. Ciao a tutti e alla prossima!